Salve a tutti, sono Marco Campanella e oggi, come promesso e come vi avevo anticipato sulle storie su Instagram e vi invito a seguirmi su Instagram, parlo di ricondizionato. E attenzione, ricondizionato non è l'usato, ragazzi, è un usato rimesso a nuovo, ok? In questo caso, e ho chiesto, avevo chiesto molti di voi, a tutta la mia community, chi consigliarmi, molti, tantissimi, mi avete consigliato certi deal e infatti vi porto certi deal. Ma prima di andare avanti, mi raccomando ragazzi, l'80% di chi guarda i miei video, oh, non è iscritto al canale, allora, io mi rivolgo all'80%, voi siete tantissimi, tantissimi. Se guardate i miei contenuti, se vi piacciono, ora dell'80%, a qualcuno piacerà, iscrivetevi al canale, non vi costa assolutamente, assolutamente nulla, ma sappiate che per me è proprio benzina per portarvi contenuti come questi, sempre nuovi e darvi opportunità sempre nuove, farvi conoscere robe sempre nuove, per farlo, iscrivetevi un attimo, hai fatto felice un nuovo, adesso possiamo andare. Certi Deal è un'azienda internazionale ed è l'unica azienda in Italia che opera nel mercato del ricondizionato a garantire ben 24 mesi di garanzia. Questo è stato uno dei tanti plus di cui ora vi parlerò, che mi ha fatto propendere nella scelta di certi deal. Riescono a farlo perché loro acquistano direttamente il prodotto, quindi non tramite intermediari come avviene purtroppo a me in questo mercato, dopodiché lo portano all'interno dei loro CertiLab, che sono i loro laboratori, e effettuano tutta una serie di test iniziali per capire lo stato, in che stato si trova lo smartphone. Effettuano ben 32 test fatti proprio a manella, quindi controllano lo stato di usura dei tasti, lo schermo, certificano il fatto se ci sono dei graffi, eccetera, eccetera. E in più fanno altri 20 controlli, quindi in totale di 52 controlli, questi 20 sono di carattere software, quindi lo collegano al loro software che poi va a vedere come gira tutto, se è tutto a posto. Una volta fatto questo, è fatta una diagnosi profonda su quello che è lo stato dello smartphone in questione, si occupano di ricondizionarlo, quindi di riportarlo a nuovo. È chiaro che ci sono alcune cose, tipo dei graffi, che non conviene rimettere a nuovo, e per questo alla fine di tutta questa selezione, di tutta questa analisi sul singolo prodotto, assegnano al prodotto, appunto, le classiche tre categorie, che nel loro caso vanno dall'impeccabile, come in questo caso io l'ho scartato, e devo dire che questo è veramente impeccabile, è assolutamente pari al nuovo, così come è pari al nuovo anche il grado, diciamo, più basso, che è quello corretto, che, diciamo, presenta dei segni d'usura estetica, niente di particolare. In mezzo troviamo il molto buono. Comunque, in ogni caso, proprio CertiDeal si occupa di ricertificare con questo studio profondo che fa sul singolo prodotto, ricertificare e portarlo al 100% come nuovo. Quindi, smarcata questa cosa, messe 24 mesi, il fatto che CertiDeal, grazie a una propria certificazione, è cosciente di poter garantire 24 mesi, ma le cose, i plus, diciamo, di CertiDeal non finiscono qua, perché, fra l'altro, CertiDeal allunga il periodo stabilito per legge, per un eventuale ripensamento, da 14 giorni a 21 giorni. Quindi, diciamo che abbiamo ancora più tranquillità nel poter scegliere e acquistare un loro prodotto e poi abbiamo 21 giorni per assaggiarne tutte le qualità ed essere veramente soddisfatti. Questi due singoli fattori determinano, secondo me, la caratura del brand e, in questo caso, CertiDeal. Potete acquistarlo direttamente dal loro sito e vi lascio il mio codice sconto, che potete utilizzare, che è bottegatec10, che vi dà diritto a 10 euro di sconto. Utilizzatelo e andate sul sito e mettete bottegatec10, così avete 10 euro in più da poter rispetto al costo dello smartphone. Io ho dato un'occhiata, ho visto diverse cose e hanno dei prezzi veramente stracompetitivi. Di fatto, le prerogative per cui scegliere un ricondizionato sono sostanzialmente due. Una è quella economica, meramente economica, perché sappiamo oggi che prendere un iPhone, nel mio caso un iPhone 12, di appena due anni, sappiamo benissimo che Apple supporta e sostiene questi device per tanto tanto tempo. A proposito, sul loro sito trovate, oltre che chiaramente Apple, trovate anche dei dispositivi Samsung. E questo si traduce in soldoni con... si può arrivare addirittura a risparmiare il 70% sul prezzo del valore di un nuovo. Quindi diamo una mano al portafoglio senza doverci privare di uno smartphone top di gamma. L'altro aspetto è quello di, diciamo, far bene all'ambiente. Sembra scontato, però ve lo dico da papà, da babbo, come dicono in Toscana, di due bimbi. Dobbiamo in qualche modo cercare di... è chiaro che non è il ricondizionato, la scelta è il ricondizionato che migliora l'ambiente sul pianeta, questo no. Però sicuramente possiamo dare un contributo anche noi, perché è chiaro che se non si hanno delle velleità particolari e si vuole l'ultimo modello per qualche strana motivo, eccetera, un iPhone 12 è una scelta, secondo me, azzeccatissima per chi deve fare... utilizza i social, per chi vuole fare delle belle foto, per chi vuole fare dei bei video, per chi lo deve utilizzare la giornata intera. È una scelta perfetta, non c'è bisogno di andare a prendere proprio l'ultimissimo modello. E in questo caso sappiate che, oltre ad aiutare voi stessi il vostro portafoglio, aiutate anche la natura, perché diamo vita, ridiamo vita a degli apparati che, differentemente, sarebbero morti così dispersi nell'ambiente. Io l'ho spacchettato, l'ho provato, devo dire che come prodotto va benissimo, funziona, ho fatto un paio di telefonate, è tutto perfetto. L'ho guardato io, ma l'ho fatto vedere anche ai ragazzi in bottega e mi hanno detto tutti quanti che, secondo loro, è un prodotto nuovo, è veramente nuovo, non c'è... non c'è scricchiolio, non c'è assolutamente nulla, fatemi sentire la cassa, vediamo, facciamo un test sulla cassa, giusto per provarlo, perché mi sembra corretto provarlo. ragazzi, le casse mi sembrano messe, messe molto bene. Una cosa molto bella, molto figa, un altro dei plus, dei tanti plus che offre certi deal, è il fatto che loro garantiscono che la batteria non sia mai inferiore all'80%. Nel mio caso, ad esempio, lo stato dei cicli di ricarica effettuati dal mio esemplare è del, addirittura, 92%. Ora, voglio prendervi, ad esempio, il mio iPhone 14 Pro Max che uso da... quando è uscito? Cinque mesi, sei mesi, un attimo solo, e posso dirvi che... posso dirvi che... andiamo su impostazioni, batteria... il mio smartphone con appena... cinque mesi, sei mesi, è al 98%, contro il 92% di uno smartphone di due anni fa. Ragazzi, c'è veramente, veramente tanta, tanta, tanta roba. E comunque, in ogni caso, un altro dei plus che mi sono piaciuti di certi deal è quello di offrire dei pacchettini. Ad esempio, noi vogliamo la batteria nuova al 100%, loro ci cambieranno con una piccola spesa in più, ci cambieranno la batteria mettendo una batteria nuova al 100%. Ragazzi, è chiaro che nel mercato del ricondizionato non si può pensare di avere dei ricambi ufficiali Apple, sono dei ricambi assolutamente garantiti. D'altronde, con la garanzia a 24 mesi, se è riscontrato un problema, certi deal, è pronta a venirvi incontro per sostituire. È chiaro, se lo schiantate a terra, no. Però, se ci dovessero essere dei problemi, dei difetti, loro sono assolutamente pronti. con i loro venti, nell'arco dei 24 mesi, a sistemare lo smartphone o trovare altre formule. Io penso che stiamo davanti a un'ottima, ottima scelta. Io ve lo consiglio, mi raccomando, Bottega Tech, codice sconto 10, Bottega Tech 10, 10 euro di sconto per portarvi a casa a questi bei gioiellini. Noi ci vediamo con un altro fantastico, spettacolare video. Ciao!